Ciao a tutti, in questo video posto dei vocalizzi per la voce media, maschile e femminile, quindi di baritono e di mezzo soprano, come mi avete chiesto. Sono dei vocalizzi che stanno nell'ambito di intervalli di terza e di quinta e li facciamo in un'ottava abbastanza comoda, in modo tale che se studiate da soli non andate a farvi male. E' importante essere seguiti e poter cantare su vocalizzi un pochino più estesi, ma seguiti da un'insegnante appunto perché la guida è necessaria per evitare che vi facciate danni o cantiate nella maniera non corretta. Mi raccomando, cercherò di essere breve con la spiegazione, ricordatevi sempre, uno respiro, due resto in apertura, quindi in appoggio e tre sostengo e guido sempre il fiato dalla parte alta, diciamo, dei miei addominali dal plesso solare. Iniziamo con gli intervalli di terza, potete utilizzare questi vocalizzi con esercizi di fiato sulla Z oppure sulla R, oppure utilizzarli anche per gli esercizi della MI o della NIO oppure quelli sulle vocali, ad esempio e così via. Iniziamo da qua, questa sarà la nota per il mezzo soprano e questa per il baritono che è esattamente l'ottava inferiore. Iniziamo da qua, questa è la nota per il baritono che è esercizi di fiato, iniziamo da qua. Iniziamo da qua, questa è la nota per il baritono che è esercizi di fiato, iniziamo da qua, questa è la nota per il baritono che è esercizi di fiato, perfetto, ora facciamo le quinte, ovvero queste. iniziamo da qua, questa è la nota per il baritono che è esercizi di fiato, iniziamo da qua, questa è la nota per il baritono che è esercizi di fiato, iniziamo da qua. 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 iniziamo da qua.